Non spingere troppo nella prima curva o rischi di compromettere la corsa. Per ottenere un buon rifiutato oggi dobbiamo usare la massima cautela. Devi cedere quella posizione, hai eseguito un perpassio regolare. Grazie per la visione! Hoi! 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 Alla volta. Il livello di carburante è buono, ma continueremo a tenerlo d'occhio. Hai danneggiato la lezione anteriore, ma non c'è da preoccuparti. Non rientrare, manteniamo le sotte ai doss previste. Il DRS è disponibile in questo giro. Ricordati che potrai attivarlo quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a un secondo. Ottimo, hai stabilito il giro veloce. Ottimo, hai stabilito il giro. Ottimo, hai stabilito il giro. Sì in questo punto da città come? no, non lo so, va ok E' vero, no, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.